buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere insieme un progetto che ha fatto parlare di sen nelle settimane precedenti a questa flessione e sto parlando di cadena una block chain ibrida a costo zero che ha di recente lanciato anche il suo swap decentralizzato che si chiama caldex con relativo token nativo andiamo a vedere che cosa sono cadena e cad ex ovviamente dopo la sigla cadena protocollo che ha fatto parlare di sé per uno degli ultimi rally sul comparto delle criptovalute ma che cos'è è stata ideata da una start up dove i fondatori sono degli ex dipendenti dei jp morgan ed è uno dei progetti più recenti di level one emergenti sta raccogliendo tantissimo interesse da parte degli utenti e anche degli utilizzatori della sua architettura per alcune delle caratteristiche intrinseche di questa block chain ma soprattutto della sua architettura unica block chain ibrida ad altissima velocità e con il protocollo di validazione dei nodi che conosciamo benissimo perché è anch'essa come bitcoin una pod protocollo è uno dei più sicuri perché gli smart contract inseriti in questa block chain hanno integrato un sistema automatico che va a individuare i bug rendendolo così per l'appunto privi di bug un'altra caratteristica importante è che questa bello cene questo progetto farà riferimento a business e attività e per queste operazioni le transazioni saranno a costo zero questo meccanismo lo va a rendere il primo protocollo che integrerà delle daps senza costi aggiuntivi cadina si trova attualmente a rank 69 per capitalizzazione di mercato ed è nella watch list di oltre 183 mila utenti che utilizzano coin market cap nel momento in cui sto registrando il video si attesta un valore di mercato di 10 euro e 93 e con il crescita di questi ultimi giorni ha un oscillazione negativo del 13,82 per cento con un totale circolante che sarà al massimo di un miliardo di token ha raggiunto il suo ath all 11 novembre 2021 con un prezzo di 24 euro e 97 centesimi ad oggi perde il 56 10 per cento dalla th mentre il prezzo più basso di sempre è stato di 10 centesimi l'11 gennaio 2021 attualmente i maggiori exchange che quotano cadina sono q coin gate punto io bitrex e coin ex all'inizio di questo mese un exchange meno conosciuto coin metro ha permesso agli utenti di mettere a rendita cadina e in soli 20 minuti dall'apertura dello staking sono stati riversati nella pool oltre 740 mila token l'altissima velocità e i bassissimi costi di transazione legati anche alla sicurezza dovuta per l'appunto alla prof work ha fatto sì che alcuni protocolli per gli nft si siano spostati su cadina infatti di recente ha stretto una partnership con ufo gaming una piattaforma di gaming per blog cene che ha intenzione di creare un proprio metaverse per quanto riguarda la velocità di transazione si attesta secondo il team di sviluppo a 480 mila transazioni al secondo quasi dieci volte superiore alle 50 mila transazioni di solana l'infrastruttura attuale di questo protocollo contiene 20 sotto catene intrecciate che aiutano ad aumentare la portata della rete e grazie all'implementazione degli aggiornamenti futuri potrebbero già implementarsi fino ad arrivare a 50 sotto catene la facilità di programmazione aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni portafogli user friendly inoltre tornando a parlare degli nft cadina offre alcune caratteristiche fondamentali compreso la possibilità degli sviluppatori di poter programmare in back end di un nft facendo così aumenta i potenziali casi d'uso degli nft stessi come abbiamo visto cadina offre transazioni gratuite per le grandi aziende e attività però lascia libero arbitrio agli sviluppatori di dappe di progetti di utilizzare chiamiamolo così un servizio che viene chiamato gas station permette per la punta agli sviluppatori di decidere o meno dare le transazioni gratuite anche ai propri utenti questa funzione gas station o stazione di servizio non è in tanto che un conto prefinanziato che paga il gas per attirare più utenti possibile all'interno delle dapp e per agevolarli e per agevolarli nell'utilizzo facendo così cadina attira più persone possibile all'interno del proprio ecosistema abbassando quasi del tutto le barriere di ingresso per quanto riguarda la pov a differenza di bitcoin col passare del tempo non diventerà sempre più difficile la risoluzione dei nodi questo significa che cadina non avrà bisogno di più energia man mano che passerà il tempo man mano che si aggiornerà diventerà più complessa per far funzionare il suo protocollo questo significa che partecipare alla valutazione dei nodi quindi al mining non sarà così difficile come per bitcoin e non c'è non sarà necessario creare delle farm il linguaggio di programmazione utilizzato per cadina si chiama pack che hanno definito il primo linguaggio intelligente di programmazione realmente decifrabile comprensibile dall'uomo questo linguaggio è stato esplicitamente progettato per facilitare la creazione di smart contract in modo ovviamente che sia più facile lavorarci per tutti ovviamente dato anche al background del team e gli ideatori di cadina si espanderà anche nella finanza centralizzata e anche sulla defy per quanto riguarda quest'ultima presto si riuscirà a interagire anche sulle vm di ethereum e cadena per quanto riguarda la defy ha lanciato il suo caddex lo swap decentralizzato di cadena attualmente ancora in fase veda sarà possibile utilizzare lo swap pool di liquidi t per ottenere i token lp dando liquidità al protocollo lo stake il farming e bayon cadex avrà anche il suo token utility un token governance all'interno del protocollo che è chiamato kdx kdx è il token attivo di caddex che è un asset deflazionistico che funziona anche come token in governance per il sistema ovviamente in questo modo si va a incentivare l'acquisto e l'accumulo di kdx che l'offerta complessiva andrà a diminuire nel tempo il token del team va a rappresentare solo il 5 per cento della fornitura totale di 100 milioni di token il 95 per cento è assegnata le vendite dei premi e la community la distribuzione della fornitura di token cadde sarà veramente decentralizzata fin dall'inizio la fornitura di kdx è soddivisa nelle seguenti percentuali per il team e 5 per cento ovvero 5 milioni di token strano bloccati per due anni con la prima distribuzione che inizia dopo 12 mesi 40 per cento verrà distribuito per le ricompense ovvero 40 milioni di token verrà utilizzato per premiare i liquidi provider con gli lp token gli staker e gli utenti caddex rendendo la piattaforma ideale per il trading e la creazione di rendita passiva la ricompense per quanto riguarda la community sarà del 25 per cento ovvero 25 milioni e questa sezione sarà controllata dalla dao che sarà in grado di stanziare fondi che sarà in grado di sviluppare e finanziare qualsiasi programma che riterranno opportuno per lo sviluppo della comunità e dell'ecosistema il 30 per cento ovvero 30 milioni di token sarà distribuito per la community sales e il restante 14 per cento verrà venduta la comunità di cripto investitori per poter sponsorizzare il lancio di cadex e velocizzarne l'adozione per quanto riguarda le commissioni del trend in swap quando viene eseguito viene addebitata una commissione standard dello 0,3 per cento di cui il cento per cento vale lp e quindi i fornitori della liquidità per lo staking i titolari del token kdx avranno la possibilità di mettere a rendita cap di x guadagnare lo 0,05 per cento su tutti gli swap degli utenti che utilizzano l'ecosistema per poter interagire con cadex bisogna installare dei wallet come ad esempio del core chainweaver e one torus ovviamente vi farò dei video dedicati per l'utilizzo di questi wallet e per l'utilizzo dello swap di tutto il protocollo di cadex bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento come sempre vi ringrazio per l'attenzione e spero che il video sia stato di vostro gradimento e l'abbiate trovato utile vi invito ad iscrivervi al canale qualora non abbiate ancora fatto dell'univere la nostra community telegram e se volete darmi una mano con algoritmo di youtube a lasciarmi un like commentare i miei video noi ci vediamo prossimamente ciao a tutti